Oroscopo del giorno. Martedì 14 maggio 2024. Ariete. Amore. Questo sarà un giorno di metà mese caratterizzato da una bella armonia di coppia. Le emozioni non mancheranno e potrebbero travolgere pure i single. Lavoro. Potrebbero esserci delle prove lavorative da dover superare. Le stelle vi sosterranno. Toro. Amore. Il martedì odierno sarà per voi un giorno in cui la storia d'amore sarà stabile, piacevole ed equilibrata. I single potrebbero condividere cose nuove con persone nuove. Lavoro. Aspettatevi delle occasioni in più a livello professionale e ricordatevi di non sprecarle. Gemelli. Amore. Questo giorno sarà caratterizzato da complicità nelle relazioni, con il partner oppure con una conoscenza tutta nuova per chi è ancora single. Lavoro. Cambiamenti e trasformazioni potrebbero esserci sul posto di lavoro. Qualche occasione veramente buona oggi. Cancro. Amore. Oggi non avrete paura di esprimere i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Miglioramenti dunque in ambito amoroso, sia per chi è in coppia sia per chi vuole intraprendere una conoscenza tutta nuova. Lavoro. Occasioni nuove per questo nuovo giorno del mese. Tutto ok anche a livello economico. Leone. Amore. Miglioramenti sentimentali in questo martedì di metà maggio. Un rapporto personale potrebbe essere increscendo mentre i single potrebbero conoscere una nuova persona. Lavoro. Potrebbero esserci dei cambiamenti professionali in vista. Potrete aspettarvi delle interessanti opportunità. Vergine. Amore. Una giornata stabile per voi e per la persona che avete al vostro fianco. Avrete una stabilità di coppia che accrescerà la relazione in modo solido. Non si possono escludere delle novità per chi è ancora single. Lavoro. Questo martedì potrebbe essere piuttosto sorprendente sul posto di lavoro. Novità da ogni punto di vista. Bilancia. Amore. Sarete molto presi dalle vostre relazioni, dai vostri rapporti personali. Questo vi permetterà non solo di vivere emozioni ma di trovare delle complicità speciali, anche se siete single e volete intraprendere una conoscenza. Lavoro. Professionalmente dovrete essere agili in modo da sapervi ben muovere in ufficio. Qui potrebbero arrivare delle occasioni interessanti. Scorpione. Amore. Aspettatevi un martedì ricco in amore perché ci saranno emozioni, complicità e tanta passione da vivere insieme al partner o una persona nuova. Ottime stelle sul piano sentimentale. Lavoro. Dalla vostra avrete Giove, Plutone ed anche Saturno. Un buon giorno lavorativo. Sagittario. Amore. Una giornata di metà maggio in cui potrebbero esserci dei passi in avanti importanti in amore, con la vostra dolce metà. Pure i single oggi potrebbero avere qualche bella sorpresa sul lato sentimentale. Lavoro. Tanta determinazione vi servirà per poter affrontare qualche piccolo o grande intoppo professionale. Capricorno. Amore. Molti di voi sentiranno il desiderio di avvicinarsi una persona nuova e sarà possibile farlo. Godetevi le emozioni in amore perché arriveranno sia per le coppie che per i cuori liberi. Lavoro. Occasioni per fare molto in questo martedì di maggio. Acquario. Amore. Le emozioni potrebbero farvi traballare un po' nel corso di questa giornata. Avrete sicuramente bisogno di maggiore stabilità ed equilibrio in un rapporto. Lavoro. Avete degli obiettivi prefissati e lotterete per raggiungerli. Pesci. Amore. La posizione di venere sarà buona e non favorirà solo chi è già in coppia ma anche chi è ancora single. I cuori liberi, infatti, potrebbero conoscere qualcuno di particolarmente interessante. Lavoro. Energie che potrebbero rivelarsi importanti sul posto di lavoro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie.